Finita! Almeno non dovrò tagliarmi i capelli a zero, Cap Caron, non dovrò farmi il Cap Caron, peccato perché ci avrei sperato, sinceramente avrei preferito farmi il Cap Caron e vedere vincere la Roma e passare il turno, però diciamo che la Roma ha vinto perché ha vinto 3 a 2 ma non è bastato per passare il turno. La partita è andata come mi aspettavo perché siamo andati a vedere il video che ho caricato quando tre ore fa, vi avevo praticamente detto che sicuramente la Lazio avrebbe fatto un gol sicuramente perché me l'aspettavo, perché mi aspettavo la stessa partita contro il Lione praticamente, così è successo, siamo passati in svantaggio, diciamo immeritatamente, però è impossibile non meritare di passare in vantaggio con una partita da affrontare in un certo modo perché ovviamente dovevamo affrontare una partita nel modo in cui l'abbiamo affrontata, cioè attaccando, la Lazio al primo tiro praticamente ci ha segnato con Milinkovic di nuovo e niente, è finita 3 a 2, doppietta di Salah, io alla fine ho detto se vinciamo 4 a 2 mi incazzo perché dovevamo assolutamente riaprirla prima, poi abbiamo preso il secondo gol, inizio praticamente secondo tempo ed era imprendibile, imprendibile. Io mi aspettavo addirittura un'espulsione perché noi ci agitiamo un po' troppo come squadra quando non otteniamo quello che vogliamo, mi aspettavo l'espulsione. E niente, cosa dobbiamo dire di più? Dobbiamo dire semplicemente che nelle due partite la Lazio ha meritato assolutamente il passaggio del turno perché noi come al solito come contro Lione abbiamo sbagliato la partita d'andata perché se almeno nella partita d'andata ci facevi un golletto sicuramente l'approccio era meno frenetico perché siamo stati un po' troppo frenetici come al solito per la voglia di andare a recuperare il cazzo di risultato però ovviamente la Lazio ha giocato benissimo, difendendosi bene, andando in contropiede. Peggiore in campo Nainggolan perché era stanco, si vedeva, si vedeva era stanco Nainggolan, non azzeccava un passaggio, un tiro, lui che di solito i tiri ce li ha. E a proposito, ma perché non tirate in po', ma tirate! Ci arrivano al limite dell'aria, devono per forza mandarla in mezzo per nessuno, per nessuno. Abbiamo fatto tipo 200 cross per nessuno, nessuno. Sto cazzo di vizio non lo so. Zeko meglio della partita d'andata perché almeno di testa qualche volta l'ha presa, non ha centrato la porta. Stracoscia ha salvato la Lazio in un paio di occasioni. La Lazio ha fatto tre tiri, due gol. Semplice. È stato bravo immobile, migliore in campo secondo me della Lazio perché ci ha messo lo zampino in entrambi i gol. Bravo immobile, ha fatto una bella partita. Primo gol, colpa di Manolas che non ha visto praticamente il pallone per aria. Cioè si è guardato attorno e ha detto ma dove è la palla, dove è la palla? E niente, si è perso immobile. Poi gran parata di Alisson sulla respinta, non marca nessuno Savic e gol della Lazio. Però vabbè, per poter vincere questa partita al primo tempo dovevi vincere 1-0 e non pareggiare 1-1 perché dovevi puntare, non dico i supplementari, ma non dovevi assolutamente puntare a subir gol. Bruno Perez, Boragame non piace, Salah anche, non ha fatto una gran partita, Salah sinceramente. Si è giusto risvegliato, ha fatto giusto i due gol, si è giusto risvegliato verso la fine. Nengolan secondo me è il peggiore di tutti. Primo tempo bene Juan Jesus, secondo tempo migliore in campo assolutamente a Emerson che sta crescendo partita dopo partita. Niente raga, anche quest'anno non si vince un cazzo. Io sono meno amareggiato delle altre volte perché me l'aspettavo, lo sapete che me l'aspettavo. Contro il Lione, lì ci sono stato proprio male perché ci ho sperato fino alla fine. Però qui me l'aspettavo, quindi mi vedrete sicuramente un po' più sollevato dal solito. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Io ho dato un po' un'alandisi generale di questa semifinale di Coppa Italia in attesa dell'altra finalista. che uscirà domani tra Napoli e Juventus. Niente, fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto nei commenti. Complimenti alla Lazio, vanno in finale meritatamente secondo me perché in entrambe le partite è quella che ha meritato di più secondo me. Niente, lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere come la pensate voi sotto nei commenti. I canali dei Brelle, sempre i miei social in descrizione, mi raccomando. Niente, Capcaro, mi dispiace, l'avrei fatto tranquillamente. Ciao a l'ho!